Il secondo capitolo del manga più recente di Senseiha, The Rise of Poseidon, è finalmente uscito in Giappone. Quindi vediamo di fare una review più che un riassunto, di vedere i punti salienti, perché già da questo secondo capitolo cominciamo ad avere delle risposte su questa serie. E la prima cosa che salta all'occhio è una conferma implicita che si tratterà di una serie breve. In questo capitolo praticamente vengono un po' aggiornati i generali degli abissi riguardo alla situazione e poi si entra subito in azione, subito in scena, con quella parte che solitamente nelle serie di Senseiha corrisponde alla scalata. Come ben sa chiunque conosce Senseiha, la scalata di solito arriva come parte conclusiva, finale di una saga. Quindi il fatto che già qui al secondo capitolo si è iniziata questa corsa dei generali verso Nemesis contro i suoi guerrieri ci fa capire che si entra subito nel vivo e non ci sarà tanto tempo da perdere. Il che era stato anche intuito quando Nemesis aveva detto che la Terra sarebbe stata distrutta nel giro di un numero abbastanza basso di ore. Detto questo, però, prima di entrare in azione, il capitolo, se non altro, si prende un po' il tempo di lavorare con i generali. Non un grandissimo approfondimento, a dir il vero. Abbiamo qualche scambio di battute che ne delinea un minimo la personalità, ma veramente un minimo. Il POV, il personaggio sul quale c'è maggiore attenzione, è ovviamente Canon, e, come auspicavo nel capitolo precedente, per fortuna sembra che venga, se non altro, accennato il discorso che Canon non sarebbe più un generale degli abissi, ma un cavaliere di Atena. Detto questo, per ora si tratta appunto soltanto di un accenno, la situazione, nonostante un flashback al sacrificio di Canon contro la Damante, ma poi la situazione molto rapidamente si sposta a dinamiche più recenti. Ogni generale ha qualche battuta, ha qualche cosa da fare, per ora molto generiche. Sono emersi un pochettino in più Crisaule e Remuri. Crisaule che è il rigido e inflessibile della situazione, diciamo immaturo del gruppo, mentre Remuri sembra essere utilizzato come macchietta comica. È quello che ha le espressioni un po' più bizzarre e particolari, e mi ha ricordato un pochettino il Cancer visto di recente, per esempio in Origins, Destiny e Zero. C'è quel Cancer un po' più sopra le righe rispetto al Cancer della serie classica. Detto questo, comunque, per adesso Remuri non ha ancora avuto nessun exploit eccessivo, è semplicemente quello un po' più chiassoso e rumoroso del gruppo, che tutto sommato ci può anche stare. Ricordiamoci che noi in fondo avremmo visto i generali degli abissi interagire tra loro in circostanze rarissime. Praticamente se escludiamo Siri e Canon non li avremmo mai visti insieme. Quindi anche un semplice scambio di battute tra Cavallo del Mare e Kira è comunque qualcosa di nuovo ed apprezzabile, tutto sommato. Ora, il punto più interessante del capitolo è sicuramente quello che fa Julian, Nettuno, con le sulprici di scaglie dei generali, perché in una mossa un po' sorpresa Julian si taglia la mano col tridente, bagna le sulprici con il suo sangue divino, e le sulprici tornano a prendere, se non altro, l'aspetto di vere armature di scaglie. Ci sono tantissime cose da dire al riguardo. Per prima cosa non sappiamo se sia soltanto una trasformazione estetica o se ci sia effettivamente un potenziamento. Alcune frasi dei generali dicono che sentono l'armatura viva addosso, che è qualcosa solitamente associato alle armature di Atena. E infatti questo gesto di riparare le corazze con il sangue non era mai finora stato applicato a qualcuno che non fosse un cavaliere di Atena. È la prima volta che vediamo un'armatura non di Atena venire in qualche modo rigenerata con il sangue divino. In Lost Canvas era successo qualcosa con Radamante, ma in quel caso Radamante aveva ricevuto il sangue nel corpo, non era stata soltanto bagnata la sua armatura. Tra l'altro il sangue di Julian ha rigenerato anche l'armatura di Siria, che era ancora tutta distrutta dopo gli effetti della nebulosa di Andromeda della Siria classica, mentre ora sembra completamente restaurata. Il punto però è che per gli altri generali non sappiamo appunto se sia soltanto estetica o se siano effettivamente armature di scaglie. E questo è importante da tanti punti di vista. Per prima cosa c'è almeno un oggetto, cioè l'arancia di Crisaure, che non dovrebbe essere semplice ricreare, rigenerare, anche se questa si trattasse soltanto di una copia in qualche modo ben riuscita. Dovrebbe essere la bella arancia di Crisaure per avere tutti i poteri di quello originale. Crisaure finora non ha detto niente al riguardo, sembra che ci venga lasciato intendere. Immaginate che sia originale, non fatevi tante domande. Poi è la prima volta in cui vediamo un personaggio riportato in vita che non indossa la surplice. La surplice è solitamente il mezzo che tiene in vita i cavallieri personaggi resuscitati. Per esempio, avevamo visto in Lost Canvas con Aspros che, soltanto grazie allo spirito di Defteros, lui riusciva ad indossare l'armatura d'oro dei gemelli una volta torta la surplice. Altrimenti sarebbe dovuto immediatamente ritornare nell'aldilà, perché la surplice è ciò che permette allo spirito risorto di rimanere nel mondo dei vivi. In questo caso sarebbe possibile che, trattandosi solo di una trasformazione estetica, le armature che i generali indossano siano sotto sotto ancora delle surplice, delle surplice che adesso hanno preso l'aspetto di vere armature di scaglie, ma che hanno comunque addosso il potere di tenerli in vita. Non credo, insomma, che i generali siano risorti permanentemente, anche se per questo elemento dovremmo aspettare di leggere esattamente i dialoghi e anche di vedere i capitoli successivi. Ma così ad occhio sarebbe una idea, una soluzione un po' troppo semplice, riportare permanentemente in vita i generali con il sangue di Julian. A proposito del sangue di Julian, ricordiamoci che è il sangue del corpo umano di una divinità. Non è il sangue del corpo mitologico, ovviamente, non abbiamo mai visto il Nettuno leggendario, ma non è nemmeno il sangue di una reincarnazione, come è solitamente Lady Isabel. È il sangue di un corpo ospite, di un corpo posseduto, un po' come sarebbe stato il sangue di Andromeda. E, in teoria, questo sangue non dovrebbe bastare. Pensiamo quante volte Andromeda ha versato sangue, eppure quel sangue non ha mai avuto alcun potere. Certo, non è mai successo che versasse sangue mentre era posseduto dallo spirito di Ade. Quindi si potrebbe immaginare che in quella circostanza il suo potere sarebbe stato maggiore. Però dobbiamo tenere presente questo dettaglio. È il sangue di un umano posseduto. Va anche detto che in Lost Canvas il sangue di un umano posseduto, come in quel caso Aaron, aveva eventualmente portato a power-up di Redamante. Quindi sembra che gli autori non guardino tanto queste sottigliezze, queste finezze, ma ci dicano, è sangue divino. Accettalo come tale. E, ovviamente, l'utilizzo del sangue divino non fa altro che farci immaginare una possibile futura comparsa delle armature di scaglie divine, delle God Scales, che sarebbe la prima volta in cui un'armatura non di Atena si evolve a rango divino in maniera ufficiale. Quella di Redamante nel Canvas non era mai stata chiamata effettivamente God Surprice, anche se a tutti gli effetti più o meno lo era. Più o meno, più o meno che più, tutto sommato. Ma è un po' ironica la cosa perché l'utilizzo di questo sangue divino ricorda un po' tanto Sue of Gold. Tant'è vero che mi verrebbe da chiamare questo manga non più Rise of Poseidon, ma Sue of Coral se vedremo effettivamente la comparsa delle armature di scaglie divine. È possibile anche per un discorso di merchandising visto che ci sarebbero da fare e vendere modelini che sappiamo che tirano sempre tanto. Ultima cosa da dire, riguarda gli avversari. Un'immagine, tra l'altro a colori, ha svelato il quintetto di guerrieri a servizio di Nemesis. Per ora sono soltanto 5, il che vorrebbe dire che ci sono meno nemici che generali. Quindi o alcuni generali dovranno combattere in gruppo, oppure viene messo da parte qualcuno per combattere contro Nemesis vera e propria. I primi che sembrano scendere in campo sono Crisaure e Siria. Nonostante anche Cavallo del Mare e Chira abbiano provato a fare qualcosa, ma finora senza grossi risultati. Anzi, anche risultati un po' patetici. L'avversario di Crisaure è un guerriero avato che si chiama Beuerofonte. Beuerofonte è un nome che viene dalla mitologia greca. Infatti era uno degli eroi leggendari come Perseo, ad esempio, ed è considerato uno dei più grandi eroi prima dell'era di Ercole. Beuerofonte è particolare perché collegato al mito di Pegaso, era infatti colui che cavalcava il Pegaso. E sembra che l'autore abbia in qualche modo ripreso questo dettaglio perché se guardiamo la sua armatura ha diversi elementi dell'armatura di Pegasus. Sembra un po' un misto tra le varie corazze di Pegasus, incluse sia quelle di Seiya che quelle di Koga di Omega. In particolare il prototipo di quella che sarebbe dovuta essere l'armatura di Koga nella prima stagione di Omega, prima che venisse modificata. Però se guardiamo i dettagli del diadema, i bracciari che ricordano quelli delle V2 di Seiya, il cinturino che è simile a quello della V1 di Seiya, ecco, c'è tanto di Pegaso nel design di Beuerofonte. Al contrario, l'avversaria di Siria si chiama Tersicola e anche questo è un nome mitologico. Tersicola era una delle muse e della corei che suonava l'arpa. Si presuppone uno scontro tra musici che personalmente non mi fa tanto impazzire, credo che sia qualcosa che non rende tanto bene su carta, ma è un buon espediente per in qualche modo vincolare questa tipologia di poteri così particolare e fare in modo che Siria abbia un avversario a l'altezza senza doversi infognare in uno scontro fisico contro musica. Vedremo come verrà sfruttata la situazione. È il secondo scontro tra musici del mondo di Senseiya dopo quello storico tra Orfeo e Faro della Siria Classica. Ma è interessante notare come i primi a scendere in campo siano già due o tre generali solitamente considerati più forti ovvero Siria e Quisaure. Resta soltanto Canon del trio dei più potenti. Mentre i vari Abadir, Remuri, Kira e Cavallo del Mare bisognerà un po' vedere come verranno sfruttati. Finora Nettuno sembra rimanere in disparte, i generali sono partiti da soli quindi è probabile che la vicenda resti nelle romani almeno per un po'. Un'ottimissima cosa da dire è che questo capitolo conclude dicendo che il prossimo uscirà ad aprile quindi sembra essere una serie irregolare tutto sommato con queste uscite cadenzate abbastanza larghe. Bisogna capire se per dare tempo all'autore che disegna in uno stile molto simile o cruma da classico in alcuni casi anche abbastanza piacevole ma ci sono anche delle scene in cui le prospettive sono abbastanza sballate si vede che manca un po' di esperienza quindi magari potrebbe aver bisogno di più tempo per portare avanti la serie o potrebbero essere certi progetti di Torre Quinte che non conosciamo sembra un manga molto orientato allo sviluppo commerciale quindi chissà magari ne verrà annunciato presto animo i modellini o qualcosa del genere vedremo voi cosa ne pensate di questo utilizzo dei generali siete curiosi di vederli combattere credete che vedremo le armature di scaglie divine scrivetelo come sempre nei commenti qua sotto da me anche stavolta è tutto alla prossima ciao